Musica Poi è chiaro che fa parte del gioco anche noi giornalisti e tutti gli appassionati ubidiamo a questa specie di ricerca incredibile e continua di volere razionalizzare un gioco che invece è un gioco bellissimo perché come diceva Brera è un mistero agonistico quindi parliamo fin quando vogliamo poi quante volte vince quello che doveva perdere quello che ha giocato male e via dicendo